Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram ci concentreremo oggi a parlare di politica ma non lo faremo a livello nazionale se non solamente a un passante perché ovviamente ogni minuto tutto quanto si evolve parleremo invece della nostra area geografica più vicino, il vento dell'Ovest abbiamo titolato e poi partiamo proprio da un'immagine, ve la vogliamo far vedere subito con la grafica se la regia me la mette in onda, parleremo di questa zona qui in particolare e abbiamo voluto metterla sulla mappa, è la zona, è l'area di Campi Bisenzio per capire bene come sta di fatto come è una di fatto una cerniera tra Firenze e Prato e proprio nello sviluppo dell'area metropolitana che sta tra Firenze e Prato le nuove strategie interpellano ovviamente il Comune di Campi e per questo noi oggi abbiamo il sindaco Emiliano Fossi che saluto e ringrazio, buonasera e benvenuto Buonasera, grazie a voi In chiusura le chiederò anche qualcosa del governo ma insomma lo faremo, lo faremo, le domande difficili Esatto, le domande difficili le lasciamo a dopo quando ci siamo un po' scaldati invece parliamo del tema principale, il vento dell'Ovest oggi soffia verso Campi Bisenzio è stato presentato un piano diciamo di indirizzo diciamo così all'indomani di una riunione cioè subito dopo una riunione che avete fatto lei e il sindaco Dario Nardella e Eugenio Gianni intanto la prima questione può sembrare secondaria ma secondo me invece è molto importante è una quadra politica rinnovata e ritrovata e soprattutto come dire fattiva cioè per fare le cose realmente Sì, diciamo è un crocevia davvero importante e direi storico nella nostra realtà che è il frutto di anni e mesi di lavoro quindi non nasce dal caso intanto perché come incontro era programmato da un po' di tempo e poi perché appunto è il frutto di anni di lavoro, di impegno e anche di costruzione di un rapporto che seppur attraverso esperienze alterne ma ha sempre avuto come filo conduttore quello di un rapporto collaborativo e potenzialmente costruttivo oggi è, si può dire, un rapporto maturo nel senso che è maturato attraverso vari passaggi e che riconosce questo reciproco riconoscimento appunto questo reciproco valorizzazione quindi il comune di Firenze la città metropolitana con il sindaco Nardella il comune di Campi e la regione che fa da elemento di garanzia di un accordo importante che per Campi e per l'area appunto in cui Campi è inserita rappresenterà davvero una svolta quindi ne parleremo poi magari più approfonditamente sulla questione statica ma anche con Nardella si è ritrovato una ricuscitura anche politica di intenti diciamo così sì, è stato un anno abbastanza intenso dove ci sono stati sicuramente momenti anche più di maggiore difficoltà e di frizione di alcuni momenti di conflittualità molti anche fraintendimenti però insomma i rapporti maturi si costruiscono anche attraverso questi passaggi l'importante è non perdere mai di vista un elemento è quello della politica è quello di guardare al bene comune di guardare alla costruzione di percorsi condivisi e quindi oggi possiamo dire che seppur appunto il rapporto poi anche attraverso alcuni momenti di frizione personale è sicuramente sempre stato molto positivo ma quello come dire non è mai stato messo in discussione e il rapporto istituzionale è sempre stato quello comunque di un confronto vero, franco ma appunto costruttivo e oggi il punto in cui arriviamo è anche il frutto di questo percorso e della maturità anche delle persone insomma io credo che la stima di fondo tra il sottoscritto e il sindaco di Firenze non è mai mancata oggi siamo a questo anche perché penso ci siano due persone che si sono sempre riconosciuti come interlocutori assolutamente importanti e affidabili Sì, tra l'altro appunto su questo io vedo anche come dire un riguadagnare un po' il primato della politica anche rispetto ad altre logiche ne parleremo dopo però come dire la retorica l'abbiamo messa nel titolo di solito la mettiamo lì invece mi piacerebbe essere anche molto concreto e quindi fuori dalla retoria nel dire che poi alla fine l'area di Campi Pisenzio ma così come un po' tutte le cinture urbane delle grandi città devono necessariamente essere al centro delle nuove politiche urbanistiche appunto delle aree metropolitane perché inevitabilmente sono le zone spesso e volentieri più densamente abitate dove si sposta la popolazione che hanno anche di solito un costo minore rispetto ai centri città e quindi appunto sono più accessibili e quindi dove si devono di pari passo concentrare i servizi sul ragionamento alto ne parleremo voglio andare subito invece al concreto diciamo della linea guida di quel programma ve lo fate vedere ho visto prima abbiamo intravista la grafica qui abbiamo messo diciamo in fila i punti che sono venuti fuori da quell'incontro realizzazione dell'otto 2 della tranvia numero 4 che va dalla stazione Leopolda a Campiovisenzo realizzazione della metotranvia per Etola Pecci con la fermata presso l'area dei Gigli realizzazione del collegamento Spola Pistoiesi-Sbanore poi ci spiegherà meglio il sindaco di cosa si tratta lo sviluppo e la qualificazione del polo dei Gigli la realizzazione del polo scolastico per l'istituto superiore nella zona di via Palagetta e infine non per merito la realizzazione della rete di ciclopiste collegata alla super ciclovia Firenze-Prato è un progetto davvero anche molto bello dal punto di vista della sostenibilità è un bel pacchetto diciamo sì c'è tanta roba alcune di queste opere non sono già state pensate messe tutte insieme messe tutte in fila sono un bel da fare diciamo così sì diciamo l'incontro è stato positivo e profilo sia perché come dicevamo prima c'è un riconoscimento di una centralità di una soggettività politica forte nel comune di Campi e questo diciamo è un fatto di assoluta novità perché se sicuramente Campi ha dalla sua un elemento di grande potenzialità che è quello di essere baricentrico in quest'area quindi è l'elemento di collegamento tra Firenze e Prato però questa sua forza questa sua potenzialità doveva ancora svilupparla e capitalizzarla al massimo da un punto di vista politico quindi il passaggio di Sabato è importante perché finalmente Campi viene riconosciuta per quella che poteva essere sempre stata e fino a un fondo non è mai stata oggi si può dire lo è e lo è riconosciuta non solo dalla città metropolitana ma dal comune di Firenze e questo è un passaggio davvero storico ma anche dalla regione e poi ci sono tutti le ricadute appunto di investimenti infrastrutturali e non solo che avete citato nella scheda in maniera molto precisa e che sono tante risorse perché il tutto cuba molti milioni di euro e poi opere davvero che potranno migliorare stravolgere in meglio il nostro abitato e non soltanto il nostro abitato non soltanto il comune di Campi perché la realizzazione di queste opere significa un beneficio su tutta l'area sì assolutamente quindi molte sono il frutto appunto di anni di lavoro che oggi trovano una concretizzazione perché se parliamo per esempio del primo punto il secondo lotto della linea 4 della tramvia il 15 di gennaio scadeva al bando del MIT del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento di opere simili e quindi il comune di Campi la città metropolitana la regione hanno presentato domanda per finanziare appunto quel tratto di tramvia e abbiamo ragionevoli motivi per essere ottimisti di poter ottenere quel finanziamento così come la realizzazione del polo scolastico superiore nella zona di via Palagetta anche quello è il frutto di un lavoro di tempo speso dal comune di Campi in rapporto con la città metropolitana e anche con la regione che ha portato per esempio nel bilancio previsionale approvato poco tempo fa dalla città metropolitana a prevedere 17 milioni di euro di spesa da parte della città metropolitana previsti per la realizzazione della scuola superiore a Campi e così per fare appunto due esempi tra i più importanti di quell'elenco però ecco è il frutto del lavoro di anni e sicuramente sabato ha avuto un'accelerata questo lavoro di costruzione e di collaborazione senta perché poi noi abbiamo messo i punti concreti ce ne sono anche alcuni che sono di indirizzo si dice anche che insomma le istituzioni poi come dire queste sono le previsioni l'idea si impegneranno a sviluppare un confronto pubblico soprattutto insomma con i vari attori che poi dovranno interagire per la realizzazione di queste opere di questi servizi e immagino poi anche con la popolazione insomma nel sottoscrivere un protocollo di intesa che abbia tanti attori in campo che sono sia quelli istituzionali che quelli amministrativi e anche soggetti privati sì questo è un altro punto come dire che è stato caldeggiato un po' da tutti nella riunione naturalmente dal sottoscritto ma anche dal sindaco Nardella e anche in particolare dal presidente Gianni cioè quello di far vivere un accordo che ha già dei passi concreti altri ne arriveranno ma anche nel rapporto con la cittadinanza e con gli attori di una comunità e quindi i soggetti organizzati le associazioni cioè processi di cambiamento forti importanti appunto storici come questo hanno necessità e assoluta importanza di essere vissuti e condivisi anche con con chi nelle comunità vive quindi appena non rischiano di rallentare i lavori perché poi un tempo era questo no 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 nel senso che qui c'è già un pezzo di lavoro già avviato quindi significa però di condividerle di farle conoscere di spiegarle di di fare anche massa su critica su delle scelte importanti per il futuro di una città come la nostra però ecco e quindi questo lo faremo ora quando la situazione anche della pandemia permetterà la possibilità di fare anche incontri in carne rossa dal vivo non solo su online ma una cosa a me questo ha bisogno anche di un interazione di un momento bello vissuto insieme perché come dire sono davvero passaggi importanti quindi è bello che le persone possano partecipare e essere presenti senta le posso chiedere una cosa mi è venuto in mente così a un passano mentre parlava secondo lei ha influito sul fatto insomma di dare anche un'accelerazione di mettere nero su bianco un progetto vero e proprio di sviluppo di un'area intera della città di Firenze della città metropolitana di Firenze ha influito anche il fatto che tutto sommato siamo in una pandemia che ha rallentato ci ha fatto perdere un anno quasi completamente il 2020 ma in un certo senso forse ha velocizzato sul bisogno di fare le cose cioè ha reso più concreta e più importante anche la velocità la celerità e la quadra in un certo senso anche politica insomma ha portato come dire il discorso lo ha striminzito ai minimi termini e quindi bisogna agire subito ci si può perdere poco in parole ma sì io credo che questa intuizione sia giusta nel senso che sicuramente la pandemia ha portato molte delle realtà dei soggetti pubblici delle realtà di governo a concentrarsi sul governo della pandemia e quindi sulla gestione di una fase così difficile però ci ha portato tutti a un maggior senso se è possibile dire così anche di responsabilità rispetto ai tempi cioè provare a velocizzare di più provare a a far sì che poi appunto il momento della fine della pandemia coincida anche con non con un blocco totale ma coincida con un lavoro che nel frattempo è stato fatto che possa permettere di ripartire magari con un piglio una modalità anche un paradigma un po' diverso da quello del passato però insomma che poi quell'occasione perché poi è così quando finiscono queste grandi fasi di crisi e di drammi per le società poi c'è di conseguenza una reazione e una esplosione anche di voglia di fare e di rilancio quindi farsi trovare pronti significa anche questo e credo che questo programma vada anche in quella direzione senta una domanda gliela devo fare come dire parlavamo prima anche del primato della politica in un certo senso la ricuscitura tra lei e Nardella è anche sintomo di una nuova visione sul fronte stadio insomma sul fronte rispetto alla Fiorentina che in qualche modo aveva exacerbato un po' gli animi con il progetto dello stadio del rifacimento del Franchi o dall'altra parte la realizzazione a Campi Bisenzio uno dei punti come di riuscito da quella riunione è anche che sullo stadio si prende atto del lavoro importante che fa il sindaco di Firenze per la messa in sicurezza e il restalling del Franchi quanto all'ipotesi di stadio a Campi se quando la Fiorentina intenderà proseguire su questa strada le istituzioni si impegnano ad un incontro congiunto con la società per prendere eventualmente in esame il progetto di fattibilità tecnica e economica presentata dai proponenti ai sensi della legge eccetera insomma sostanzialmente come dire una disponibilità in due direzioni da entrambe le parti anche un pochino questo lo dico io giornalisticamente per togliere l'alibi alla Fiorentina che a questo punto ha tutte le carte per poter decidere in tranquillità qual è l'opzione migliore no? Sì allora noi abbiamo sempre detto in tutte le lingue del mondo che per noi sulla questione stadio il nostro era un mettersi a disposizione per la soluzione di un eventuale problema e che era giusto che in primis la Fiorentina guardasse al capoluogo quindi a Firenze alla città di Firenze e che la città di Firenze e il suo sindaco facessero tutti i passi necessari per poter dare un'opportunità alla Fiorentina quindi e questo è sempre stato il nostro modo di comportarci e il nostro atteggiamento che è ribadito anche in questo passaggio quindi prima verificare se ci sono le possibilità su Firenze fino in fondo se quelle non vanno e se ci sono le condizioni i campi è a disposizione e in questo passaggio lo diciamo tutti insieme lo diciamo unitariamente lo dice il presidente della regione lo dice il sindaco di Firenze il sindaco della città metropolitana e quindi da questo punto di vista credo sia importante tanto per la politica che appunto riprende un primato riprende una centralità non si divide o non dà l'idea di essere divisa e quindi si mostra compatta è un bene anche per la Fiorentina che in questo modo per qualsiasi investitore diciamo che vuol fare un investimento importante per le comunità avere un interlocutore unico cioè non il sindaco di Campo il sindaco di Firenze o la regione ma tutti insieme a un tavolo che si confrontano con le possibilità di sviluppo di quella che è davvero una grande opportunità per l'area fiorentina che è quella appunto dei propositi della nuova proprietà della società lei ha parlato con Commissione Company come le ha viste nell'ultima riunione sullo stadio a Campi noi ci siamo parlati venerdì che era il giorno prima dell'incontro con Gianna Nardella e l'incontro è stato intanto cordialissimo come sempre di grande disponibilità e di grande collaborazione quindi le ho viste come le ho viste nelle riunioni precedenti cioè in un processo di valutazione delle possibilità sia su un'ipotesi che sull'altra e quindi una situazione di non decisione ancora e proprio anche per questo appunto è importante la riunione poi c'è stata il giorno dopo tra le istituzioni cioè il fatto che come dicevo prima le istituzioni sono compatte nel poter affrontare insieme qualsiasi scelta venga fatta dando priorità al Franchi e con l'ipotesi di Campi come l'ipotesi alternativa quindi ecco le ho viste così le ho viste naturalmente molto motivati andare avanti ma appunto in fase di riflessione e di valutazione Senta siccome non manca molto volevo chiederle un paio di cose la prima è quella a cui accennavo prima non voglio farlo passare a un discorso troppo alto troppo filosofio però come dire la rivalutazione dell'area vasta delle aree metropolitane ne abbiamo parlato anche spesso in questa trasmissione è un po' uno spettro dei nostri tempi dell'urbanistica delle ripensate delle città dei nostri tempi lei candida Campi come dire a farsi portavoce anche in base a queste opere concrete di questa rinascita delle periferie se uno volesse sintetizzare in questo modo qui e glielo chiedo anche rispetto a una cosa molto precisa la sfida oggi nel 2020 insomma in questi anni qui è evidentemente la sfida anche del verde del green della sostenibilità Campi può fare meglio da questo punto di vista a che punto è? Ma allora intanto sul primo aspetto io credo che questa sia la sfida intanto la sfida di una visione ampia una visione vasta la città le città non sono più separate da le mura semmai sono state ma noi possiamo e dobbiamo affrontare le sfide in una dimensione più ampia più vasta quindi anche in questo senso in termini periferia può subire un cambiamento sicuramente io credo che la potenzialità la grande potenzialità dell'area fiorentina ma se vogliamo allargarla appunto dell'area vasta che comprende anche Prato e anche Pistoglia è quella di provare a scommettere appunto su questa dimensione non più nelle singole specificità e guardate su questo aspetto io credo che questo passaggio è importante non solo per campi non lo nego ma è perché può essere anche un'apripista di un rapporto che io credo e sento avere che ha nelle corde il sindaco metropolitano anche con le altre territori ecco quindi di di riconoscimento reciproco e di visione più ampia quindi questo è uno dei passaggi sicuramente delle sfide di qui ai prossimi anni il secondo quello dell'ambiente è appunto è un un obbligo che ci viene ancora di più sottoposto dalla fase in cui stiamo vivendo cioè quando io penso che noi si debba ripartire in maniera diversa da prima e quindi cambiando paradigma penso che uno degli elementi centrali debba essere davvero il tema dell'ambiente della sostenibilità e delle politiche che vanno in questa direzione noi sul nostro territorio ci stiamo impegnando tanto non solo perché per esempio il nuovo piano strutturale del comune che stiamo proprio discutendo in questa fase a breve lo approveremo poi ci sarà la seconda parte del piano operativo va proprio in questa direzione del tema della sostenibilità e tema ambientale inteso in più sotto più aspetti che è quello di un ritorno per alcuni aspetti a valorizzare alcune aree anche da un punto di vista rurale e agricolo il tema della forestazione il nostro comune sta partecipando al bando per la forestazione urbana sia della regione sia quella della città metropolitana e anche su questo stiamo investendo tanto così attraverso tante altre politiche che possono sembrare rivoli più piccoli ma vanno a comporre quello poi il letto di un ruscello più ampio di un fiume più alto e questo appunto delle politiche ambientali la lotta allo spreco il alimentare e non il tema di una visione virtuosa anche del ciclo dei rifiuti insomma sono tutti elementi che noi abbiamo come diciamo obiettivo e come modalità di lavoro sulle nostre politiche e che proviamo a implementare e credo siano uno dei terreni di sfida appunto della politica dei prossimi anni insomma tra l'altro anche nelle opere che avevano prima ce ne sono un paio soprattutto l'ultima appunto è molto interessante della ciclopista che riguarderanno anche i campi proprio stamattina Nardella e Biffone il sindaco di Firenze e di Prato si sono incontrati per parlare della ciclovia inevitabilmente se si va da Firenze a Prato si passa per campi sì ma è quello politica ambientale significa quello politica ambientale significa sempre per rimanere all'elenco la tramvia il metro treno il collegamento che il presidente Gianni vuole portare avanti in maniera decisa tra Peretola e Pecci è anche quello che dal punto di vista dell'inquinamento appunto è una strada molto trafficata piena di vetture sempre congestionata trafficatissima esatto con alcune fermate non tante ma perché appunto non è né una metropolitana né una tramvia è una via di mezzo tra il treno e questi mezzi di locomozione quindi sarebbe un'assoluta novità per la nostra realtà però però è quello francese esatto ha quell'intenzione lì di collegare un'asse anche qui di sviluppo dell'area a nord-ovest attraverso un sistema più compatibile e sostenibile l'ultimissima cosa cioè siamo in chiuso ma gli avevo detto gli avevo chiedere non so se ci siamo mai trovati con lei a commentare le dimissioni di un presidente del consiglio ma insomma sicuramente nella sua carriera politica e anche io nella mia breve carriera giornalistica qualcuno l'ho visto perché in Italia siamo abituati a non farci mancare una crisi di governo praticamente ogni anno e mezzo ci risiamo al di là di questo vi chiedo al di fuori delle battute insomma dal punto di vista anche rispetto a queste cose qui c'è delle cose che ci sono da fare sui territori l'instabilità di una crisi di governo o la situazione in cui siamo adesso anche con il recovery plan all'orizzonte e con la pandemia ovviamente che cosa significa? Ma significa un momento che noi siamo abituati in Italia all'instabilità siamo abituati ai cambi di governo ai cambi di presidente del consiglio però insomma una crisi di questo genere in una fase così difficile come quella della crisi sanitaria e in un momento in un crocevia così decisivo come quello appunto in cui si sta discutendo le risorse arriveranno per il recovery found e quindi che riguardano da vicino le persone perché poi noi stiamo già avviando dei tavoli di confronto programmatici per esempio i comuni le zone della provincia di Firenze con la città metropolitana per cominciare a lavorare su delle schede vere e proprie tecniche per poter intercettare i possibili finanziamenti che rappresentano delle opportunità storiche ecco a maggior ragione in una fase come questa ecco il fatto che la politica a livello nazionale dia il peggio di sé non ci fa passare bene sicuramente sullo scenario internazionale ma soprattutto rispetto a una politica è quella del quotidiano del lavorare direttamente con i problemi nel rapporto alle persone ma può essere quella non voglio fare la retorica del sindaco perché non mi piace però di chi appunto ha tutti i giorni a che fare ecco appare quanto meno straniante quindi io spero francamente non lo dico tanto da iscritto e militante del Partito Democratico ma spero ma da uomo delle istituzioni spero che quanto prima venga risolta che si dia a questo paese un governo che sia stabile e che possa affrontare appunto questo passaggio e questo crocevia dei fondi europei e affronti poi la presidenza dalla scelta del Presidente della Repubblica e poi vediamo quello che succederà ma in questo momento tutto serviva meno che una crisi di governo e tutto serve meno che un cambio radicale del governo perché francamente il fatto di perdere del tempo per rifare un nuovo governo magari scegli un nuovo Presidente del Consiglio con lo stesso Presidente del Consiglio una nuova compagione governativa significa perdere tanto tempo e tempo prezioso quindi io speravo si chiudesse prima non si chiude spero che come dire se ne esca con una nuova in carico al Presidente Conte ma questo lo dico davvero per interesse del paese e che si possa appunto affrontare queste sfide che abbiamo di fronte con un governo nel più breve tempo possibile vediamo tutto nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insomma in bocca al lupo a lui perché è a noi come italiani grazie mille Emiliano Fossi per essere stato con noi a tutti per averci seguito da casa noi ci fermiamo qui naturalmente ci vediamo domani buona serata a tutti grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille